L'Italia, lo ricordiamo, è il terzo posto nel mondo per il numero dei contagiati che sono raddoppiati. Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori. Assolutamente sì. Bisogna. Ma per forza. È così. Sempre. Certamente è possibile, ma è anche necessario. Non è così banale. E per questo non è importante la strada che sceglierete e molto più importante l'approccio con cui deciderete di percorrere. Grazie.